Il maestro fa ora la dimostruzione delle due tecniche principali per la lavorazione del vetro. La prima è la tecnica assoluta, ora il maestro vi farà vedere un vasetto. Il forno ha una temperatura di 1200 gradi. All'interno c'è un recipiente con le tre materie principali. Sapere che si dice un potassio e sodio. Dopo otto ore di fulgita queste materie ci danno il vetro trasparente. Qui si now ha la dimostration of the two most important techniques for work of class. The first one is the office that is called the glowing technique. The master will show you now a little phase. In the oven we have a temperature of 1200 degrees. And the reason is the same with the three principal materias. Si rica c'è, potassio mensolino. After eight hours in the oven, these materias supertivas e transparente glass. Vemos ahora las dos técnicas más importantes para el trabajo del vidrio. La primera y más antiga se llama técnica soplata. Il maestro aseora un pequeño floreo. Il horno tiene una temperatura de 1200 gradi. Adentro hai un recipiente con le tre materie principali. Arena di silenzio, potassio e sodio. Después de ocho horas del horno, estas materias constan en el vidrio transparente. Una hora de hacer el tipo de suportada, un poquito más de duerme. Quanto a mí la fuerza esterna, la que tiene su frente. No, no me traba lo cero, a tutti y más. Arrítelo con su, o nate, pero todo el tipo de sufre. I día en poca, a 20, más de 10, 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 más de 10. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.